Onorevoli senatrici, molti auguri. Onorevoli senatori. Il Consiglio di domani e dopodomani per noi, per l'Italia, ha una rilevanza soprattutto perché è l'ultima tappa della discussione prima delle celebrazioni e della connessa dichiarazione per il sessantesimo dei trattati che si terrà tra 15 giorni qui a Roma. A questo tema, alla discussione di questa celebrazione e della dichiarazione che si deve preparare sarà dedicata alla giornata di venerdì del Consiglio. Io partirei da questo perché forse è in un ordine del giorno di un Consiglio un po' di transizione, per così dire, è l'elemento di maggiore interesse per il Governo e per il Parlamento italiano. Sapete che appunto il 25 marzo si celebra nella Sala degli Oreatzi e Curiazzi in Campidoglio dove furono firmati il sessantesimo dei trattati. Quella firma, avvenuta 60 anni fa, avvenne dopo una serie di, come sapete bene, dopo una serie di tentativi o falliti, come quello della Comunità Europea della Difesa o parziali come quello della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e diede un primo sbocco alla grande ambizione europeista che da decenni attraversava le parti migliori delle classi dirigenti e intellettuali europee con l'idea dei sei Paesi fondatori, tra cui l'Italia, di muovere i passi verso un mercato unico. L'idea che il mercato unico, di cui allora si posero le prime basi, avrebbe potuto essere il motore trainante e la base di una unione politica, di un percorso di unione più generale. Oggi che questo edificio è sotto pressione e talvolta sotto accusa in una parte rilevante dell'opinione pubblica di diversi Paesi europei, io credo che dobbiamo innanzitutto e dovremo innanzitutto in occasione del sessantesimo anniversario riconoscere che il cammino che è partito in quel momento ha prodotto in ogni modo dei risultati straordinari. E credo che avremo molte occasioni nei prossimi quindici giorni l'Italia sarà un po' un cantiere, avremo incontri tra i diversi Parlamenti, tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, tra i think tank. Sarà per una decina di giorni un cantiere di dibattiti europei ed europeisti e dovremo, almeno questa è l'opinione del Governo, utilizzare questa occasione per ribadire i risultati straordinari che nonostante le difficoltà di oggi sono stati raggiunti in questi sessant'anni. Magari per le generazioni più giovani sono risultati che vengono dati per scontati, ma credo che, ad esempio, la mia generazione abbia molto chiaro il privilegio di aver potuto attraversare un lunghissimo periodo in Europa di pace, senza guerre. Quindi il primo grande risultato in un'Europa che aveva prodotto nei primi quarant'anni del secolo scorso tragedie e milioni di morti, la pace, una pace stabile. Il secondo risultato è che l'Unione Europea è stata nel suo evolversi uno straordinario motore di libertà. Anche questo spesso lo dimentichiamo. Sappiamo che ha consentito l'edificio dell'Unione Europea di uscire dalle dittature fasciste che avevano coinvolto paesi come la Grecia o la Spagna e il Portogallo e dalle dittature comuniste nei paesi dell'Europa dell'Est. Senza l'Unione Europea uscire come si è usciti da questa situazione sarebbe stato molto difficile. E poi certamente l'Europa qui andiamo su uno dei punti dolenti della discussione di questi anni, di questi ultimi anni, ma se la guardiamo con una prospettiva lunga l'Europa è stata anche in termini di modello di protezione sociale un grandissimo risultato. che in un certo senso nel mondo viene indicato come risultato. La protezione dei diritti, il welfare, il sistema europeo. Ripeto, oggi traballante, contestato. Non è che dobbiamo nasconderci le difficoltà di oggi, ma dobbiamo, se siamo una classe dirigente consapevole del proprio ruolo, dobbiamo raccontare anche i successi che in questi 60 anni sono stati raggiunti. Altrimenti non troveremo le chiavi per andare avanti. L'Europa superpotenza commerciale, il mercato unico come straordinaria leva di una grande forza commerciale che oggi in un mondo complicato come quello attuale torna di attualità. Ci sono grandi paesi, grandi aree del mondo che guardano con interesse all'Europa come partner commerciale di grande potenzialità. E infine l'Europa della cultura, dell'educazione, dei valori condivisi. Ora, tutto questo naturalmente oggi è minacciato, è in difficoltà, lungi da me immaginare un governo che utilizzi l'occasione dei 60 anni dei trattati per fare soltanto il racconto delle conquiste, dei risultati positivi che sono stati acquisiti, perché a tutti noi risuona ancora nell'orecchio credo l'esortazione che Papa Francesco l'anno scorso ricevendo il premio Carlo Magno lanciò a proposito dell'Europa e cito chiedendosi e chiedendo a noi che cosa ti è successo Europa umanistica paladina dei diritti dell'uomo della democrazia e della libertà che cosa ti è successo e questo sarà il tema delle discussioni di questi giorni e mi auguro della dichiarazione di Roma e cioè non solo raccontare i risultati dell'Unione Europea ma raccontare le prospettive dei prossimi dieci anni immaginare che cosa può essere l'Unione Europea nei prossimi dieci anni e farlo cercando di ancorare questo sarà lo sforzo del governo italiano assieme alle istituzioni comunitarie la dichiarazione di Roma che potrebbe avere un certo significato per la storia dell'Unione Europea adesso non ci sbilanciamo finché non non abbiamo sviluppato il negoziato che non sarà semplice nei prossimi quindici giorni e che inizierà appunto nella giornata di venerdì però potrebbe essere una dichiarazione che indica una strada e per noi questa strada deve essere incentrata su tre grandi valori il primo è sul ruolo internazionale dell'Europa e quindi sulla possibilità che l'Europa svolga sul piano geopolitico una funzione più rilevante e che possa farlo innanzitutto lavorando per una maggiore integrazione delle sue forze delle sue risorse sul terreno della sicurezza e della difesa in secondo luogo un'Europa più orientata in termini di politiche economiche sulla crescita sugli investimenti sulla protezione sociale e in terzo luogo un'Europa che non rinuncia alla libera circolazione delle persone una delle conquiste straordinarie di questi anni ma che associa alla libera circolazione delle persone finalmente una politica migratoria comune questi temi cercherò di esprimere anche tra una settimana il 15 marzo all'assemblea parlamentare di Strasburgo dove su invito del presidente del neoeletto presidente Tajani che ringrazio di questo invito assieme al al presidente del consiglio europeo e al presidente di turno cercherò di esprimere questi concetti in vista della dichiarazione di Roma e degli incontri di Roma con quale ambizione dal punto di vista dell'assetto si muove l'unione europea lungo questi binari beh certamente non aspettiamoci che le risposte sull'assetto futuro dell'unione europea arrivino dalla dichiarazione di Roma stiamo ai fatti i fatti ci dicono che la commissione europea ha rilasciato qualche giorno fa un libro bianco che in un certo senso è una cornice per la discussione da fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni è uno strumento molto prudente per chi ha avuto occasione di guardarlo nel quale si delineano cinque diversi scenari dal più minimalista al più ambizioso e si cerca su questi cinque scenari di incanalare la discussione che verrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la posizione del governo italiano in questi scenari delineati dalla commissione europea credo che sia abbastanza nota noi da sempre siamo favorevoli come Italia direi a percorsi di integrazione in Europa e per quanto riguarda il governo che io rappresento siamo favorevoli questi percorsi a considerarli anche come oggi si dice con livelli di integrazione differenziati dietro questo gergo un po' da iniziati della discussione europea c'è sostanzialmente il riconoscimento di uno stato di fatto qual è lo stato di fatto è che la lo slogan la ragione sociale che da sempre campeggia sull'edificio dell'unione europea e cioè che l'unione europea deve muoversi verso una integrazione sempre maggiore è una prospettiva che oggi è molto difficile da realizzarsi nell'Europa a 28 anzi a 27 che ci si prospetta e che quindi non contro qualcuno qualcuno ha visto questo progetto di un'Europa a diversi livelli di integrazione come un progetto immaginato contro i paesi del cosiddetto gruppo di vicegrad alcuni paesi dell'Europa ex orientale ma non si tratta di questo si tratta innanzitutto di una realtà di fatto perché oggi e da anni non da qualche giorno l'Europa su questioni fondamentali ha livelli di integrazione differenziata c'è l'Europa dell'euro e c'è l'Unione europea con singole monete nazionali c'è l'Europa di Schengen e ci sono diversi paesi dell'Unione europea che non aderiscono a Schengen ci sono paesi dell'Unione che fanno parte della Nato e altri che non fanno parte della Nato la possibilità di livelli di integrazione differenziata è già prevista nei trattati vigenti non è qualcosa che necessiti oggi la modifica dei trattati quindi capisco che in qualche paese membro dell'Unione questa prospettiva possa essere vista con preoccupazione ma si tratta ripeto di dare delle chance in più a una realtà che abbiamo già davanti e non certo di modificare questa realtà in questi mesi in queste settimane in modo formale andando a ridiscutere quelli che sono i pilastri giuridici oggi dell'Unione dicevo che questi 60 anni per concludere questa parte sui trattati di Roma e su quello che forse è il capitolo più rilevante del prossimo vertice europeo questi 60 anni si celebrano certamente in un momento di difficoltà abbiamo avuto il 23 giugno scorso il voto dei cittadini del Regno Unito per l'uscita dall'Unione Europea è stato uno shock per certi versi imprevisto che segnerà il corso dell'Unione per il prossimo anno anno e mezzo da quando probabilmente a fine mese il Governo di Londra deciderà di attivare la procedura prevista dall'articolo 50 dei trattati e ci sarà un negoziato al quale credo l'Italia debba disporsi con un atteggiamento di amicizia nei confronti del Regno Unito in termini di collaborazione geopolitica di interessi comuni in alcune aree del mondo che restano fondamentali e contemporaneamente rendendo chiaro che non è possibile avere i benefici del mercato unico e al tempo stesso non condividere gli impegni dell'Unione Europea credo che questa consapevolezza si sia fatta strada negli ultimi mesi anche nel Regno Unito e che questo crei le basi per una possibile discussione ragionevole le preoccupazioni non derivano solo dal voto del 23 giugno ma derivano anche da un contesto generale internazionale che io ritengo per certi versi certo preoccupante ma che penso che l'Europa debba considerare non tanto per le preoccupazioni ma per le opportunità che dischiude all'Unione Europea è inutile che noi passiamo le prossime settimane a interrogarci su quali saranno le scelte della nuova amministrazione americana con la quale peraltro per ovvi e antichissimi rapporti il governo italiano è interessatissimo ad avere il miglior livello di collaborazione possibile ma il problema dei Paesi europei non è interrogarsi cercando negli auruspici i segnali di quali potranno essere le scelte in questa o in quella direzione il problema è che noi sulla base della nostra storia della nostra esperienza sappiamo che le tentazioni di vedere i propri interessi nazionali come contrapposti agli interessi nazionali dei nostri vicini in Europa non hanno mai portato bene anzi hanno provocato tragedie nel corso del secolo scorso e per questo anche l'Unione europea oggi vive il rischio del ritorno a chiusure nazionali non solo come una minaccia ma come una grande opportunità per un paese per un'area economica commerciale integrata come la nostra che può diventare un punto di riferimento a livello internazionale insomma le grandi difficoltà che sono chiare a tutti in un'occasione come quella del sessantesimo devono trasformarsi in un'opportunità vale quello che che scrisse Altiero Spinelli in una sua famosissima citazione quando disse che il valore di un'idea prima ancora che dal suo successo finale è dimostrato dalla capacità di risorgere dalle proprie sconfitte e l'Unione europea deve dimostrare in questi mesi di essere capace di risorgere dalle proprie sconfitte questo è il quadro della discussione che avremo venerdì sui contenuti sui primi concetti della dichiarazione di Roma vorrei concludere segnalando al Senato altri due o tre punti che sono nell'ordine del giorno del vertice invece nella giornata di domani e che richiedono una nostra valutazione il primo è che si farà il punto anche con una relazione di Mario Draghi sullo stato delle economie europee noi abbiamo una posizione credo arcinota l'Italia rispetta le regole dell'Unione europea ma vuole contribuire addirittura se possibile guidandolo a un processo di modifica delle sue politiche è un equilibrio difficile rispettare le regole e cercare di modificare le politiche ma è la strada che dobbiamo percorrere per far sì che l'Unione europea abbia un ruolo di accompagnamento e non di depressione della crescita economica il che è particolarmente necessario per noi sappiamo che la crescita economica nel nostro paese è ancora lenta anche se la distanza dal gruppo diciamo così cioè dalla media della crescita degli altri paesi europei è è stata nel 2016 la più bassa da 5-6 anni a questo parte la distanza ma questa distanza rimane e tra un mese con il documento di economia e finanza indicheremo le scelte del governo e le proposte del governo al Parlamento per fare passi avanti ulteriori a Bruxelles deve essere molto chiaro tuttavia da subito poi sarà anche formalizzato nel mese di aprile che in Italia le riforme non solo non si sono fermate ma non hanno minimamente rallentato il loro corso del resto chi svolge l'attività in Senato alla Camera lo sa perfettamente l'attività del governo dalle misure di tutela del risparmio alla scuola dall'immigrazione alla pubblica amministrazione alle forze armate dal processo penale alla sicurezza urbana dalla legge sulla povertà a quelle sulla concorrenza e al risanamento delle periferie e al diritto fallimentare non voglio proseguire nel catalogo ma sfido chiunque a indicare un altro governo e un altro Parlamento che in Europa sia oggi impegnato in un complesso di riforme come quello su cui siamo impegnati in Italia quindi noi non siamo i primi della classe però non accettiamo lezioni e lavoriamo nell'interesse comune dell'interesse comune fa parte a nostro avviso correggere le politiche economiche dell'Unione così come fa parte avere un'Unione più presente in termini di sicurezza e difesa anche qui c'è uno spazio che si apre c'è un obbligo di condividere gli impegni in termini di sicurezza e di difesa e forse c'è anche uno spazio che il nuovo contesto internazionale offre all'Unione Europea e quindi perfino quel progetto da cui tutto cominciò all'inizio degli anni 50 e che poi si interruppe all'epoca per l'opposizione in particolare del presidente De Gaulle e cioè il progetto di una comunità della difesa potrebbe essere oggi uno dei percorsi su cui riprende vita riprende fiato il progetto dell'Unione Europea piccoli passi sono stati già compiuti anche la settimana scorsa come sapete è stato deciso un comando europeo comando militare europeo unificato per le cosiddette missioni non esecutive un termine un po' strano dal punto di vista militare ma comunque che però riguarda questo comando militare unificato alcuni teatri in cui l'Unione Europea è impegnata che hanno una certa rilevanza strategica anche per i nostri interessi penso ad esempio per fare un solo esempio alla Somalia infine oltre a quello dello Stato dell'economia europea e a quello delle politiche di sicurezza e di difesa il terzo e ultimo tema che sarà discusso sarà grande novità comunque il tema delle politiche migratori delle politiche comuni sull'immigrazione queste politiche voglio dirlo ancora una volta di fronte al Senato in particolare per quello che riguarda l'accoglienza ai rifugiati non sono una pretesa italiana sono una decisione presa dell'Unione Europea le politiche di accoglienza dei rifugiati che hanno diritto all'asilo non sono una nostra pretesa sono una decisione che è stata presa dall'Unione Europea e io non mi rassegno all'idea di una Unione che abbia due diverse rigidità una rigidità assolutamente inamovibile quando si parla di virgole di bilanci è una rigidità molto distratta e molto tollerante quando si parla di decisioni che affrontano questioni di principio come la condivisione dell'impegno sui temi migratori che non può essere questo impegno lasciato soltanto ai paesi che la geografia ha messo in prima linea e che l'Unione Europea dovrebbe sostenere e appoggiare a Malta nel vertice informale di un mese fa sono stati fatti alcuni piccoli passi in avanti che si traducono poi diciamo la verità senza spocchia nel fatto che viene sostenuta una politica portata avanti dal nostro paese sia nei confronti della Libia sia nei confronti del Niger e di altri paesi africani l'Unione Europea formalmente sostiene l'Italia nel suo accordo bilaterale con la Libia e le proposte italiane nel pacchetto che riguarda la cooperazione sui temi migratori con cinque paesi africani a cominciare da quello strategicamente più importante cioè il Niger si dirà ed è sacrosanto che gli accordi che abbiamo firmato con le autorità libiche non hanno interrotto i flussi migratori se qualcuno aveva promesso che questo sarebbe accaduto sarebbe stato un po' imprudente no io e il ministro Minniti il ministro Alfano certamente non abbiamo fatto promesse di questo genere sappiamo la fragilità della situazione libica sappiamo la complessità del percorso di stabilizzazione ma sappiamo anche che il fatto che si sia cominciato questo lavoro che le autorità libiche abbiano designato la loro delegazione nella cabina di regia comune italo-libica che deve occuparsi di questa questione che abbiano cominciato nelle ultime settimane a intervenire con i loro mezzi per trattenere una parte certamente ancora molto piccola di migranti in procinto di attraversare il mare sono segnali nella direzione nella quale stiamo lavorando non seminiamo illusioni ma sappiamo che su questa strada per quanto impervia e rischiata possiamo ottenere gli unici risultati che oggi ci consentano non di cancellare il tema dell'immigrazione perché non lo cancella neanche il mago Merlino ma per regolare i flussi e gradualmente sostituire l'immigrazione clandestina irregolare micidiale per i migranti e per il traffico che vi ruota attorno con flussi e canali più accettabili più ridotti più regolati questo è l'obiettivo che l'Unione Europea dovrebbe proporsi e io mi aspetto che come è stato a Malta a Bruxelles si faccia un passo in più soprattutto in termini di risorse per aiutare l'Italia nel lavoro di avanguardia che sta facendo sulla rotta centrale del Mediterraneo onorevoli senatrici onorevoli senatori quello che vi chiedo in vista del vertice di domani e dopo domani a nome del governo è molto semplice è quello di poter portare al tavolo la posizione di uno dei grandi paesi fondatori che crede tuttora nel progetto europeo si potrebbe dire più che mai nel progetto europeo nonostante le sue evidenti difficoltà e lo dirà con chiarezza solennemente nell'occasione del sessantesimo dei trattati vi chiedo di condividere la battaglia che il governo farà per una diversa politica economica basata su crescita e protezione sociale vi chiedo di sostenere le nostre richieste per un aiuto concreto a un paese come il nostro che è in prima linea sul terreno dell'immigrazione in particolare nella rotta del Mediterraneo centrale con il vostro sostegno con il sostegno del Parlamento il governo potrà svolgere a quel tavolo mi auguro un ruolo all'altezza dell'Italia grazie grazie a tutti grazie a tutti